Ciao a tutti, guardate dove siamo. Questo è un vecchissimo, antico strada fatta con queste pietre, una mulattiera. Dietro qui c'è Como, questa mulattiera portava all'accesso a questi tre terrazzamenti, sotto qui c'è la strada. Guardate che vista, 180 gradi. Dietro a questi alberi continua il lago, gli alberi sono di proprietà. Questo è il rustico, da cui si può ricavare 270 metri quadrati di abitazione, 2000 metri quadrati di giardino. Questo è il secondo terrazzamento che arriva fino in fondo agli alberi. Qui sotto c'è il rustico, da cui ci può ricavare l'abitazione. Togliendo gli alberi di proprietà si ha una vista a 180 gradi. Poi si può continuare a salire da questa stradina. E guardate, questo è l'ultimo terrazzamento più in alto da quel muretto. Questo ha una vista incredibile a 180 gradi. Qui c'è questa piccola grotta naturale. Immaginatevi di avere qui una piscina, di fare un giardino giapponese. Ecco, adesso vi faccio vedere. Sopra qui, noi siamo subito sotto, sopra qui c'è questa villa, che adesso vi faccio vedere la foto che affittano. Quello è il rustico. Sopra qui c'è la villa, questa villa che affittano qui attorno. Sotto subito qui ci siamo noi, con questi tre terrazzamenti di 2000 m2. Quello è il rustico. Si può ricavare 270 m2 di abitazione in classe AAA, con una vista mozzafiato. Una delle ultime possibilità di torno di ricavare una villa meravigliosa, come si vuole. È un sentiero antico, fatto di pietra, che se messo in sesto, ti dà la possibilità di avere un giardino meraviglioso con questa vista. Se volete maggiori informazioni, contattatemi. Il mio numero lo trovate qui sotto e non perdetevi questa possibilità. Chiamatemi perché davvero è un'occasione unica. Chiamatemi perché davvero è un'occasione unica.